Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, Alessandro desidera lasciare il programma, Gemma esce con Franco nelle giornate del 15 e del 20 ottobre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni di quanto accaduto nella prima delle due registrazioni rivelano che Riccardo non è riuscito a reggere la complicità evidente tra Ida e Alessandro. I due hanno ballato insieme e Guarnieri ha preferito uscire della studio. A quel punto, Maria De Filippi ha preso la parola, mettendo il cavaliere alle strette, se è innamorato di Ida, è bene che lo dica. Nello stesso tempo, ha invitato anche Alessandro a chiarire la situazione con Roberta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono al momento al centro dell'attenzione e lo studio di Uomini e Donne è spesso teatro delle loro discussioni. Nelle prossime puntate, vedremo Ida e Alessandro ballare insieme, cosa che susciterà una forte reazione in Riccardo, che uscirà dallo studio. Una volta rientrato, dirà di essere sicuro di voler abbandonare il programma. A quel punto, Maria De Filippi metterà alle strette Riccardo, facendolo riflettere sul fatto che sia ancora innamorato di Ida. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi cercherà di fare chiarezza sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Ida, oltre a cercare di sistemare la questione che si è creata tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Riccardo ha ammesso di stare male nel vedere Ida e di non riuscire a voltare pagina perché non riesce ad avere un rapporto con lei. Spazio anche a Gemma che è uscita con Franco, un nuovo cavaliere più giovane di lei con il quale però le cose non sono sembrate andare per il verso sperato, nella registrazione successiva di Uomini e Donne del 20 ottobre, e la situazione si è complicata ulteriormente. Ebbene sì, perché Riccardo è rientrato in trasmissione, ricevendo una doccia fredda da Ida. Ida ha chiesto a Riccardo di scrivere su un biglietto che la ama, in modo da avere una prova concreta di tutte le sue dichiarazioni fatte nelle puntate precedenti. Peccato che Guarnieri non abbia accettato, mandando in confusione la povera Platano. Ne è seguita l'ennesima discussione. In puntata, Ida e Alessandro hanno confermato che si sono visti all'aeroporto di Brescia e che ci sono stati diversi baci. Dopo quanto accaduto poco prima con Riccardo, Alessandro ha chiesto di uscire dalla trasmissione, deluso dal comportamento ambivalente di Ida. Tuttavia, dopo aver parlato con Maria De Filippi, Alessandro ha deciso di rimanere nello studio di Uomini e Donne.